Non è ancora all'orizzonte la soluzione definitiva per la questione annosa dei capanni da pesca. Da tempo, nell'occhio del ciclone, c'è il regolamento comunale che deve tenere sotto controllo la regolarità delle strutture, numerose e cresciute nel corso degli anni. I termini per la regolarizzazione sarebbero fissati per l'inizio del 2017, ma sembra probabile che venga posticipato a luglio 2018. In questo arco temporale i capannisti potranno presentare i propri progetti e l'amministrazione dovrà progettare un testo adeguato all'ampia varietà di situazioni esistenti nel territorio comunale. Il regolamento sui capanni è stato approvato nel 2014 e l'anno successivo quello sulle concessioni. I progetti presentati dai capannisti dovranno essere vagliati in maniera approfondita anche dagli altri enti che si occupano di tutela e salvaguarda dell'ambiente, come il parco del delta del Po e la soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio. Per ogni capanno deve essere infatti predisposta un'opera antisismica e per ogni struttura c'è l'obbligo di togliere il materiale che cede il limite fissato dei 70 metri quadri e proprio i 70 metri hanno rallentato l'avanzamento dell'attività di regolarizzazione visto che non è chiaro e dunque potrebbe avere diverse interpretazioni la metratura, ovvero non è chiarito se sia riferibile solo al capanno o anche ad altri elementi come le tettoie.